25 aule, cucine, una sala mensa, laboratori di informatica, un'aula lingue, un'aula polifunzionale, uffici amministrativi, una biblioteca, un auditorium e servizi annessi. Ecco come si presenterà il nuovo istituto alberghiero che sorgerà a Qualiano in via Giovanni Falcone e che potrà ospitare una platea di circa 650 studenti, l'area di cantiere di circa 17 mila m2 è stata consegnata questa mattina dal sindaco della città metropolitana di Napoli Luigi De Magistris nel corso della cerimonia che ha visto anche la posa della prima pietra per la realizzazione della struttura, cerimonia a cui hanno preso parte anche il consigliere metropolitano Domenico Marrazzo ed il sindaco di Qualiano, Ludovico De Luca. Questa è la più grande opera pubblica che verrà realizzata sul nostro territorio, che fa parte però del piano di investimento della città metropolitana per oltre 200 milioni di euro per i prossimi due anni. Quest'opera saranno spesi 8 milioni di euro per un istituto alberghiero quindi che darà sviluppo economico e culturale ed anche occupazionale per i nostri giovani nell'ambito del turismo, soprattutto in un'area, area giuglianese e area puteula adatta a vocazione turistica. Un'opera rivoluzionaria sarà sicuramente veramente una luce su questo territorio per i giovani ragazzi del comprensorio che vogliono passare a prendere direttamente la professione tra le mani come quella del campo alberghiero. Sì, anche se il momento è di crisi, noi come città metropolitana abbiamo voluto investire tanto sull'edilizia scolastica, in tutti i comuni con progettazioni anche rilevanti come questo a Qualiano per alberghiero e ristorazione che esiste su un territorio strategico perché non è solo il comune di Qualiano dove risiederà questo edificio che tra 18 mesi sarà pronto, è molto bello il progetto, quindi siamo veramente contenti perché in altre città grandi si sta tagliando sull'edilizia scolastica e hanno tante più risorse rispetto a noi. Noi con comportamenti finanziari e amministrativi virtuosi abbiamo deciso di investire soprattutto nell'edilizia scolastica che non è solo formazione, conoscenza, sapere, significa anche il primo presidio per la legalità e per un futuro migliore. Un progetto che potrebbe andare a braccetto proprio nel territorio di Qualiano a pochissimi passi da un litorale che non è sfruttato proprio al meglio come potrebbe essere sfruttato? Io faccio il sindaco di Napoli, questo lo dovete chiedere agli amministratori locali, poi faccio il sindaco della città metropolitana e per le materie che competono alla città metropolitana non farò mancare il sostegno anche agli amministratori locali perché la rete, la collaborazione e la cooperazione tra i sindaci della città metropolitana sarà un punto di forza dei prossimi cinque anni perché l'Unione fa la forza, al di là delle posizioni politiche noi affrontiamo problemi che spesso sono molto simili e quello del mare e del litorale è sicuramente uno dei nodi strategici per il rilancio definitivo della nostra area metropolitana. Napoli e la provincia di Napoli è il futuro rispetto alla nazione, lei come lo vede questo futuro, lo vedo di lotta, lo vedo bene e lo vedo che l'Italia si capovolge, il sud sarà protagonista del destino del paese dei prossimi anni, sono convinto che dal mezzogiorno verrà il riscatto del nostro paese, un po' perché siamo abituati a soffrire, un po' perché abbiamo dignità, abbiamo coraggio, siamo autonomi e stiamo riscoprendo quell'orgoglio e quel senso di appartenenza che fa molto bene a noi e io credo anche all'Italia. Grazie a tutti.